la risurrezione. Ritorna la missa almeno per i funerali, anche se solo per 15 persone, i parenti più cari. Sono le disposizioni concordate dalla conferenza episcopale italiana con il Ministero dell'Interno e il Governo per garantire un momento di grande importanza nella vita delle persone, non solo spirituale, le esecue. Adesso che parte la fase 2 della pandemia sarà possibile celebrare missa in chiesa o all'aperto o al cimitero da parte dei sacerdoti, a seconda delle decisioni concordate dal parroco con la famiglia alla presenza dei parenti più stretti. È stato previsto che prima dell'ingresso in chiesa sarà necessario controllare la temperatura. Per chi l'avesse superiore a 37 gradi e mezzo non sarà possibile partecipare alla liturgia. Necessaria la mascherina per la cerimonia e la distanza di almeno un metro tra tutti i partecipanti alla Santa Messa. Sarà il sacerdote poi che raggiungerà i fedeli per la distribuzione della comunione ecoaristica solo sulle mani, mascherina ovviamente anche per il parroco quando distribuisce la comunione. La chiesa dovrà essere igienizzata regolarmente mentre al termine di ogni celebrazione si dovrà favorire il ricambio dell'aria. Ove siano presenti spazi donnei contigui alla chiesa si potrà prendere in considerazione la possibilità di celebrare le sequi all'aperto con il naturale rispetto di tutte le prescrizioni.